Chi proprio non manda giù questa legge elettorale è il Movimento 5 Stelle. Nei giorni scorsi hai incontrato Sergio Mattarella. Il suo incontro con il Capo dello Stato può essere considerato nella prima missione da leader del Movimento? L'incontro del Presidente della Repubblica è stato un incontro cordiale. Dopo la mia elezione al candidato Premier del Movimento 5 Stelle ho ritenuto opportuno un confronto col Capo dello Stato. Abbiamo parlato del programma di governo che presenteremo nei prossimi mesi e del fatto che presenteremo anche una squadra di governo prima delle prossime elezioni politiche, così che tutti gli italiani possano conoscere il governo del Movimento 5 Stelle prima di andare a votare. In Commissione Affari Costituzionali alla Camera è in discussione la legge elettorale che voi ribedite fatta apposta per penalizzare il Movimento? Prima di tutto è una legge che non assicura nessuna governabilità per il Paese. È una legge in cui tutti i partiti si stanno mettendo contro di noi per farci fuori. È assurdo che Matteo Salvini, per qualche poltrona in più, stia votando una legge che favorirà di nuovo gli inciuci e riporterà al governo Renzi e Berlusconi. Loro si muovono e vanno di fretta per fare una legge elettorale e intanto affossano la legge sui vitalizi al Senato, su cui daremo battaglia anche perché siamo gli unici che hanno rinunciato ai vitalizi in questi anni. In attesa delle politiche, il prossimo appuntamento elettorale in Sicilia lo considerate un test nazionale? Io credo che abbiamo la credibilità per governare quella regione. In questi anni i nostri parlamentari regionali hanno rinunciato agli stipendi, alle auto blu, hanno approvato leggi importanti. Il problema è degli altri partiti che hanno qualche pensiero perché hanno un problema di liste pulite. Nei prossimi mesi la Commissione Antimafia analizzerà gli impresentabili delle liste. Noi stiamo col pensiero tranquillo. Loro non credo.